Buongiorno, sedicesima edizione dell'Insurance Day. Esploreremo il tema dei Living Services. Che cos'è i Living Services? È un nuovo modello di fare insurance profondamente customer centric in cui attraverso la combinazione delle tecnologie digitali e l'integrazione di partner esterni è possibile veramente trasformare i prodotti assicurativi di carattere tradizionale, passivi, in servizi attivi che si riconfigurano, apprendono in base al nostro contesto, in base ai comportamenti, per proporci dei servizi più rilevanti nella nostra vita quotidiana. Il modello di Living Services è un modello estremamente innovativo. La polizia che segue o la polizia che anticipa è importante considerare che per catturare l'attenzione del cliente è importante essere iper contestualizzati, iper rilevanti. È un mondo in cui bisogna andare velocemente, in cui bisogna fare le cose con un click in un secondo, essere smarter con i dati ed essere eccellenti nell'integrazione tra mondo online e mondo offline. Ero alla più grande conferenza al mondo dell'insurtech negli Stati Uniti e quando si parla di trasformazione dell'insurance si parla di essere più personal, più proactive e sostanzialmente molto più distintivi e avere una vista della customer journey che sia profondamente integrata. Grazie a tutti.